Il campo del digitale è un campo estremamente trasversale, così è descritto nel PNRR e così anche la politica che dobbiamo seguire. Quindi è una politica trasversale che riguarda la formazione, il lavoro, il reskilling dei lavoratori e la distribuzione sul territorio delle competenze che deve essere andare a colmare tutti i territori del nostro paese. Questa è una politica che è avvantaggiata dal fatto che il PNRR è già stato studiato in questo modo e quindi poter dare esecuzione a quello che è già nel programma potrebbe permettere anche di definire ancora meglio una organizzazione, una programmazione molto forte in questo ambito che è fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. Grazie